il protocollo reale stabilisce che tutti gli ospiti devono arrivare prima del personaggio reale e nessuno può partire prima di un membro dello studio il corteo di joe biden è arrivato cinque minuti dopo i queen all' eden project sembra che joe biden abbia infranto il protocollo reale mentre il suo corteo si è riversato in una cena del g7 dopo la regina il presidente degli stati uniti ha incontrato per la prima volta sua maestà durante il vertice in cornovaglia venerdì che ha visto sette leader mondiali riunirsi nella città costiera inglese per tre giorni il convoglio di 18 auto del pot us è arrivato all' eden project cinque minuti dopo che il monarca era arrivato con il principe william e kate e il principe carlo e camilla tutti gli ospiti sono tradizionalmente previsti per essere a posto prima che hm arrivi per qualsiasi occasione ufficiale tuttavia non sembra aver smorzato l'incontro con la regina tutta sorrisi mentre parlava con mr biden l'azienda è fondamentale per la missione diplomatica britannica per mantenere l'americano in visita da parte mentre il primo ministro boris johnson spinge per un rapido accordo di libero scambio nonché un corridoio di viaggio senza quarantena la principale autorità di etichetta reale di bretz ha dichiarato al daily mail è corretto che tutti arrivino prima che il personaggio reale e il protocollo stabiliscano che nessun ospite dovrebbe lasciare un evento prima di un membro della famiglia reale il presidente e la first lady gil biden sono attesi domenica per il tè al castello di windsor il corteo di biden era affiancato da otto poliziotti ed è arrivato dall'hotel g7 a carbis bay poco prima delle 19 di venerdì i sette leader mondiali avevano preso parte a un servizio fotografico sulla spiaggia all'inizio della giornata il ricevimento è stata la prima volta che sua maestà ha incontrato un leader straniero dopo la pandemia di covid nonché il suo primo fidanzamento ufficiale dalla morte del principe filippo ad aprile grazie a tutti